Il bilancio 2009 sembra un miracolo, ma non è vero che sia un miracolo, è il duro lavoro della nostra azienda. Il bilancio 2009 si conclude per noi positivo, registriamo un più 3% e un EBITDA di circa 12 milioni. Questi sono i dati che sicuramente siamo agli sgocci della stagione, l'inverno per noi è relativo, la protezione infernale è relativa, quindi i mesi di novembre e dicembre avremo qualche piccolo incremento. E quindi questo è il risultato, è un risultato alquanto positivo perché sappiamo che in giro ci sono cali abbastanza significativi e come dicevo prima è il risultato di un duro lavoro, ma soprattutto della qualità dei nostri villaggi e della perfetta armonia e sinergia del tour operator aeroviaggi con l'albergatore aeroviaggi. Lo sbarco in Toscana non è ancora una realtà, ma è una decisa intenzione dell'azienda. Noi vogliamo creare in Toscana un polo di almeno 1.500 posti retti. Stiamo iniziando, abbiamo buona trattativa e probabilmente in questi giorni concluderemo con una struttura di 100 camere. Ci andrebbe bene per iniziare.